Mi piace pensare alla ricerca come a un figlio. A volte ti delude, ma in fin dei conti non potrai mai smettere di amarla. Per me un PhD è un tipo di lifestyle e è una forma di proseguire i miei interessi e di challenge myself in nuove mani, proprio ogni giorno. Essere un ricercatore per me vuol dire avventurarsi alla scoperta del mondo che ci circonda per cercare di capirlo meglio. L'esperienza è stata decisamente positiva e molto arricchente per il mio percorso da giovane ricercatrice. Marie Curie diceva che lo scienziato nel proprio laboratorio non è un semplice tecnico, ma è anche un po' un bambino. E come tutti i bambini aggiungerei, è capace di meravigliarsi continuamente e di fronte al mistero della vita. Ed è spinto da una grande curiosità e da punti interrogativi.